Buongiorno a tutti, siamo di nuovo a Milano dall'Hotel Melià durante la seconda giornata del Milano iFidelity 2021 e siamo in compagnia con Stefano Meraviglia di Videocel e il dottor Andrea Farnetani, fisico che conosciamo già molto bene per già un paio di collaborazioni con AV Magazine che sono gli artefici principali responsabili, adesso spiegheremo perché della meraviglia che c'è in una delle suite, quella di Videocel, dove sono in ascolto le B&B, le nuove 803D4 ma ovviamente non solo le 803D4 perché è un impianto molto complesso con una correzione dell'acustica ambientale preparata da Andrea e anche una correzione invece digitale, nel dominio digitale, una classica DRC invece fatta col Trinnov da Stefano, mi raccontate brevemente come è andata questa, dall'idea alla realizzazione Sì, volevamo rendere una stanza d'albergo che vuota, assolutamente inadeguata all'ascolto stereofonico un ambiente invece idoneo, quindi abbiamo pensato di partire dal trattamento passivo abbiamo portato i nostri pannelli e abbiamo fatto un progetto per rendere la sala simmetrica, perfettamente simmetrica assorbire le basse frequenze tramite dei risuonatori che arrivano fino a circa 200 Hz e poi le medio-alte con dei pannelli fibrosi standard abbiamo messo dei diffusori nei punti di prima riflessione per allargare la scena, la profondità e l'altezza in questo modo abbiamo creato un ambiente che è già buono, ottimo per l'ascolto abbiamo una riverberazione di 0,4, diciamo una curva piatta da 100 Hz a 10 kHz e su questa base, che già era ottima, l'avrai visto anche dalle curve di calibrazione quindi mi stai dicendo che già con la correzione effettuata tramite i pannelli cioè prima hai fatto una misurazione, immagino? sì, abbiamo fatto una misura dell'ambiente vuoto e poi abbiamo sistemato i nostri pannelli facendo un progetto acustico di questo piccolo ambiente quindi tu mi stai dicendo che già comunque con la correzione acustica, chiamiamola passiva con i pannelli già la situazione era eccellente e lo possiamo vedere anche dalle curve che vediamo qui quindi la curva in alto è la risposta dei due diffusori che sono blu e verde e la curva rossa invece è la risposta del sub, giusto? sì ok, in realtà sono due sub sì, che lavorano in sinergia invece quella di mezzo è la curva con la correzione e quella più in basso invece è la correzione applicata con il Trinnov di cui è responsabile Stefano esatto Stefano, che cosa hai fatto invece tu di che cosa hai soccopato? allora, il mio lavoro consiste nel correggere principalmente le parti relative all'energia le rotazioni di fase che ci sono sul segnale questi elementi però devono partire necessariamente da una base di trattamento passivo perché? Perché in digitale è impossibile correggere il tempo di reverberazione di una stanza non è proprio fisicamente possibile questo diciamolo, una stanza vuota, uno specchio totale non si possono fare miracoli si può correggere l'energia si possono correggere le risposte ma non si può correggere il tempo di reverberazione cioè il suono, quanto tempo resta nell'aria e questo è causa delle code e dei limiti nella precisione della percezione quindi il mio lavoro nasce necessariamente sulle basi di quello che crea Andrea quando Andrea ha creato la sua base con un tempo di reverberazione corretto io intervengo digitalmente e genero delle curve che possano rendere l'ascolto musicale il più corretto possibile corretto sempre relativamente al genere musicale al tipo di pressione sonora che si vuole utilizzare ai gusti anche della persona quindi la cosa interessante di questo tipo di soluzioni è che noi possiamo andare ad adattare il sistema anche al modo di ascoltare ai gusti e alle pressioni sonore medie che genera normalmente l'utente che ci chiede il lavoro certo, certo, immagino che comunque ci sono delle curve di riferimento abbiamo visto qui, abbiamo visto per esempio il medio alto leggermente calante però c'è anche spazio per le personalizzazioni si parte sempre da una base tecnicamente stabile quindi da una condizione neutra che prevede sempre una piccola enfasi in gamma bassa e una medio alta calante almeno dai 2000 Hz in giù su queste basi si possono apportare piccolissime correzioni per adattarsi ma attenzione si parla di variazioni di 1-2 decibel al massimo in piccole zone quindi sono però cose che a quei livelli sono udibilissime e portano a queste piccole variazioni che aiutano l'utente finale a ottenere quello che vuole e come è stato il feedback delle persone perché questa è una fiera dell'alta fedeltà quasi dell'esoterismo dal trattamento digitale, del segnale dove potrebbe essere preso un po' con un po' di diversità è stato bene anche se nonostante tutto noi abbiamo inserito anche due sub nell'ambiente cosa che in questo settore non è mai vista di buon occhio però il risultato è stato tale che la stragrande maggioranza delle persone ha percepito come positivo l'inserimento del sub e ha quasi sempre preferito la soluzione che noi abbiamo proposto più completa con i sub e la correzione digitale lo dico perché soprattutto nella seconda giornata abbiamo fatto il gioco di non dire cosa facevamo sentire e quindi la risposta dell'utente è stata neutra cioè non falsata da preconcetti e questo ci ha portato ad avere comunque una certa soddisfazione perché la maggior parte delle persone effettivamente ha gradito questa soluzione certo, ho apprezzato anch'io e non solo abbiamo fatto un'anteprima con Vittorio qualche giorno fa e avevo venduto la sala come quella col suono più spettacolare della storia dell'Ai Fidelity spero che l'hai trovata veramente così fortunatamente fortunatamente sembra che sia così l'ho sentita sia ieri che oggi e soprattutto anche la scelta dei brani è veramente calzante quasi da incoscienti specialmente l'ultimo brano Sista di Rachel Ferrell con quella gamma bassa veramente facciamo proprio dimostrare dove si può arrivare con un sistema in quelle condizioni di diciamo perfezione tra il tempo di vibrazione e risposta energetica certo e aggiungiamo anche che chi non è potuto venire qui al Milano ai Fidelity può venire a Tresano presso Videocell dove avete la vostra saletta due sale in realtà tutte e due dove possiamo ascoltare il trino in tutte e due le modalità in una sala multicanale con Atmos e con quattro sub inseriti in ambiente e una sala stereofonica dove in realtà abbiamo comunque la possibilità di ascoltare le correzioni trino i sub con o senza e vari tipi di attoparlanti che vengono gestiti di volta in volta anche se non le abbiamo già preparate ma se il cliente prenota noi mettiamo il diffusore lo calibriamo e lo facciamo ascoltare le sale ricordiamo sono due sale curate da Andrea ovviamente e sono di cui una con quella multicanale quella più grande quella più bella con l'acustica geometria variabile per adattare l'ascolto ai generi più disparati quindi immagino un po' più assorbente per l'home cinema e un po' più diffondente per gli altri generi benissimo vi ringrazio grazie a te grazie a te adesso torno perché non ho ben capito ti aspettiamo grazie a te